Kim Kardashian rivela labitudine più strana di Kanye West Una chiacchierata sui generis quella di Kim Kardashian al Jimmy Kimmel Live, visto che la sua interlocutrice era una persona davvero molto speciale. Di chi si tratta? Lo sveleremo subito, insieme a una delle abitudini più strane di Kanye West che la socialite ha deciso di confessare al pubblico. Kim Kardashian ha colloquio con E. Se aveste l'opportunità di chiedere a Kim Kardashian tutto ciò che volete, come per esempio le più strane abitudini di suo marito, Kanye West, non lo fareste? È esattamente ciò che è accaduto giovedì sera al Jimmy Kimmel Live, ma andiamo con ordine. . 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 Beh, diciamo che questa non è davvero una delle più grandi caratteristiche per chi sta per diventare padre per la terza volta, oppure se? Kim Kardashian e Kanye West, in effetti, stanno aspettando la cicogna, che porterà con sé il terzo figlio della coppia, ricorsa, questa volta, a madre surrogata. Con i bambini bisogna senz'altro rimanere svegli, quindi se Kanye si addormenta ovunque, adesso, magari è semplicemente per caricare le pile prima dell'arrivo del nuovo componente di casa Kardashian. Grazie per la visione!